Non c'è niente, non c'è niente! Mi chiamo Marco. Mi chiamo Lisa. Come stai? Bene, ma è il mio compagno oggi e le mie amiche non sono qui ancora. Si libera nel pomeriggio? Credo di sì, perché? Andiamo alla spiaggia nel pomeriggio. Certo. A più tardi. Bene, arrivederci. Mi dispiace, mi sono al ritorno. Che ora è? Sono le 3.30 del pomeriggio. Che cosa si fa? Si va a un picnico alla spiaggia. Hai fame? Si, ho fame e ho sete. La cameriera è qui. Buon pomeriggio. Cosa prende il signore? Per me un Coca Cola. Una Coca Cola anche per lei? No, per me un panino e un tè freddo. Bene, torno tra 5 minuti. Grazie. Cosa fai di bello? Gioco di solito vinto alla polva. Anche io sono nella guanta della scuola. Mi piace cantare e ballare. Tu? Si, mi piace ballare e cantare, ma sono vergognosa. Ecco il tuo ordine. Un panino al prosciutto. Una Coca Cola e un tè freddo. Grazie. Buona giornata. Credo che conosco la cameriera. Da vero? Si, arriva al mio liceo. Tu mi chiamo Lisa e tu? Mi chiamo Mario. Ah, arriva a Artificial Donald? Si, perché? Anche io. Salve. Salve. Mi chiamo Marco. Mi chiamo Mario. Quali giorni lavori? Lavoro il sabato e la domenica. Qual è il tuo orario? Lavoro dalle 2 alle 7 in sera. Ti piace il lavoro? Si, mi piace lavorare qui. Maria, il suo compleanno è oggi. Buon compleanno, Lisa. Grazie. Che cosa fai venerdì sera? Niente. Perché? Vi piacciono fratelli di Jonas? Si, mi piacciono fratelli di Jonas. Anche io. Perché? Ho tre biglietti per loro il concerto. Davvero? Andiamo al che ora è? Anche io e 30 in sera. Ciao Lisa. Mi dispiace solo in ritardo. Andiamo al teatro venerdì sera. Mi dispiace ma o Dave Ferretti venerdì sera con i miei amici. Allora, ragazzi. I think you guys are hopeless, man. Hopeless. Perché? Cheeeeee. In me? In me? I'm still recording. This hurry up. Ma! Cosa, si è arrivata? Cosa, si è ancora la mia? non è un po' più fuori ok no, è f*** io talve mi chiamo Marco in quale giorni 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 non è non è non è No, no, no!